no ho pensato di fare qualche video sovraesposto così come scelta stilistica vabbè c'è un titolo la setta dei 3k parlo proprio del titolo che è stato utilizzato da già Luigi Bonelli per una storia di Tex è stato utilizzato più volte da Max Bunker sicuramente per una storia di Dennis Cobb ma anche una di Criminal e una di Cliff personaggio minore edito ovviamente dall'editoriale corno e poi il Ku Klux Klan torna in Angel Dark che è uno degli ultimi se vogliamo personaggi creati da Max Bunker di cui ho parlato nel canale e che era nato su imitazione di Dylan Doc è un esempio perché questa cosa mi ha colpito un po' vabbè il Ku Klux Klan sicuramente è un come dire una risorsa narrativa interessante per quello che rappresenta lo sappiamo tutti no cosa rappresenta ma c'è un film con questo titolo un noir americano a mio avviso molto interessante che è un film con questo titolo un noir americano a mio avviso molto interessante è un film del 1951 diretto da Stuart Eisler che è il regista poi di La chiave di vetro il bellissimo noir di cui ho parlato qualche tempo fa su questo canale nella stessa rubrica che come avrete capito è profondo nero ora è un film che si avvale anche di due sceneggiatori importanti Richard Brooks e Daniel Fuchs ha scritto altri film importanti per esempio Bandiera gialla di Elia Kazan mentre Richard Brooks avvierà di se non l'ha già avviata adesso non vorrei dire una sciocchezza però una importante carriera oltre che di sceneggiatore anche di regista perché Brooks poi passerà alla regia e parliamo di due autori di chiari sentimenti democratici tra l'altro che cosa racconta la setta dei 3k naturalmente storm warning nell'originale naturalmente c'entra il Ku Klux Klan con una modalità però curiosa in questo senso la protagonista Ginger Rogers per la prima volta le prese con un ruolo non brillante e va a trovare sua sorella che è Doris Day altra attrice poi a più a suo agio in ruoli di commedia assiste a un delitto delitto compiuto proprio dal Ku Klux Klan con tanto di cappucci e lenzuoli bianchi ma la cosa terribile è che scopre che suo cognato fa parte del clan ed è uno degli autori del delitto quindi si trova lo scopre da subito si trova a gestire il problema morale cioè se distruggere la vita familiare della sorella peraltro non una vita come possiamo immaginare felicissima oppure collaborare con la giustizia tra l'altro la non tanto l'omicidio ma la scena che porta all'omicidio è forse la diciamo la parte più bella del film contiene la scena più bella del film perché Ginger Rogers arriva in questo paesino dove va dalla sorella lei viene dalla città ha tentato la fortuna diciamo così nella grande città adesso vuole rifarsi una vita in provincia e quando scende dalla stazione va in un drugstore che cerca di cerca di salire su un taxi ma poi l'autista non la prende si spengono le luci di questo locale no è come se fosse se piombasse subito in un'atmosfera da incubo dove nulla può più aiutarla non può contare sulle forze dell'ordine che si rivelano disinteressate se non ostili non può contare sui cittadini perché le sembra di essere piombata in una ghost town improvvisamente e la sua passeggiata che la porta poi a imbattersi in questo delitto un uomo che viene ucciso è costellata da diciamo così luci ombre è come se in questo momento Eisler scatenasse tutto il suo talento di regista noir con tutti i topoi del noir quindi la fotografia contrastata le ombre la fotografia è di questo cargatri non il più illustre forse dei direttori della fotografia ma che qui fa un lavoro splendido e veramente siamo piombiamo in quest'incubo surrealista che porta ginger rogers ad assistere a questo delitto che non è fatto i danni di un uomo di colore perché e qui e questa è la cosa interessante secondo me per tutto il film non si parla di fatto del Ku Klux Klan come di una società una associazione razzista tesa a all'annichilimento alla segregazione e da ultimo all'omicidio di persone di colore durante il film ne vediamo pochissime tra l'altro di persone di colore due o tre comparse che si mostrano via via spaventato indignate dallo strapotere che il Klan ha in questa cittadina ma di fatto non si fa riferimento esplicito al fatto che che la comunità di colore è il centro dell'azione eversiva del Klan e dell'azione omicidaria soprattutto del Klan questo è curioso ma è spiegabile come una direi censura un'autocensura anche vagamente ridicola che Hollywood impone a questo film film che ha un altro personaggio chiave in un procuratore integerrimo deciso di scoperchiare il calderone di ipocrisia di questa cittadina in cui tutti di fatto sostengono il Klan ovviamente il personaggio di Ginger Rogers sarà il grimaldello che servirà a questo procuratore per dare una sterzata alle cose colpire nei gangli vitali questa terribile associazione e chi lo interpreta Ronald Reagan abbiamo un Ronald Reagan che per chi non se lo ricorda solo come presidente non memorabile degli Stati Uniti avrà il ricordo di un attore interessante non bravissimo questo lungagnone questo ragazzone alto alto che poi verrà utilizzato al meglio da Don Siegel nel bellissimo contratto per uccidere dove tra l'altro interpreterà il suo ultimo ruolo prima di darsi alla politica e smetterla sostanzialmente col cinema un altro momento straordinario di questo la setta dei 3K è lo showdown quando i nodi vengono al pettine di fatto le forze dell'ordine riescono a colpire e cogliere in flagrante soprattutto le attività delittuose della setta appunto in questo finale molto bello dove anche scenograficamente Eisler utilizza al meglio i tristissimi e ai noi noti vuoi per la pura narrativa vuoi per la storia la cronaca terribile anche recente se vogliamo di questo pezzo non certo ammirevole del tessuto sociale degli Stati Uniti lo coglierà insomma quindi nei suoi simboli più terribili le croce incendiate e i lugubri capucci bianchi è un film è un bel film al netto della se vogliamo del 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 non occuparsi del reale bersaglio del clan e quindi anche secondo me della della pelosa ipocrisia che lo sottende al netto di questo resta un bel film teso con una Ginger Rogers straordinaria di volta in volta speranzosa e angosciata dalla sua così dal dalla situazione terribile di cui prigioniera la sorella il marito è Steve Cochran attore aitante qui in un ruolo viscido di proprio di di parte barcia direi degli Stati Uniti e poi abbiamo un grande caratterista Hugh Sanders che interpreta il capo supremo del clan in questa cittadina e il nemico la nemesi del personaggio di Reagan è un secondo me un noir forse forse non facilissimo da trovare anche se credo che sia in circolazione un DVD ma che merita di di essere visto pur appartenendo diciamo alla diciamo allo schieramento dei noir minori però insomma Stuart Hesler che ha licenziato il suo capolavoro con la chiave di vetro anche qui mostra di essere un cineasta sensibile con una mano molto 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 incline diciamo al genere di cui ci occupiamo e quindi la setta dei 3k è è un film che come dicevo fa una bella mostra nella nel così nella compagine dei piccoli noir tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata grazie a tutti